Handless love anticipazioni. Zeynep, in presenza di Ozan, mette in atto un piano astuto e calcolato. Fingendo di avere delle forti nause, inganna abilmente il marito lasciandogli credere che sia incinta. Per rendere la sua messa in scena ancora più convincente, Zeynep si procura un test di gravidanza positivo, non suo, ma di una ragazza realmente incinta, amica di Sema. Il test con il risultato positivo è la prova tangibile che completa il suo inganno. Ozan, ignaro del trucco, è al settimo cielo alla notizia. L'idea di diventare padre lo riempie di gioia e speranza per il futuro. Tuttavia, questa felicità è destinata a essere breve. Zeynep, determinata a ottenere ciò che vuole, rivela le sue vere intenzioni con un tono glaciale. Lo ricatta. Terrà il bambino solo se Ozan le rivelerà tutti i segreti nascosti della sua famiglia. Ozan, colto alla sprovvista, si trova di fronte a un dilemma devastante. La minaccia di Zeynep mette Ozan in una posizione difficile, costringendolo a scegliere tra la gioia di diventare padre e la lealtà verso la sua famiglia. Ogni momento passato con Zeynep diventa carico di tensione e sospetto, mentre Ozan cerca disperatamente di trovare una soluzione che possa proteggere sia la sua famiglia che il futuro del bambino che crede in arrivo. La manipolazione di Zeynep non si ferma qui. Ogni giorno aggiunge nuovi dettagli alla sua recita, portando avanti la farsa della gravidanza con una precisione quasi perfetta. Ozan, sempre più preoccupato e confuso, inizia a notare piccole incongruenze, ma è troppo immerso nella speranza e nella paura per vederle chiaramente. Questa situazione complessa e tesa evidenzia la capacità manipolativa di Zeynep e la sua determinazione a ottenere ciò che desidera a qualunque costo, mentre Ozan si trova intrappolato in un vortice di inganni e dilemmi morali. La storia si evolve in un gioco pericoloso di verità e menzogne, con entrambi i personaggi che navigano nelle acque torbide della fiducia e del tradimento. Nihan è ufficialmente tornata a casa di Emir, una situazione che pesa molto sul suo cuore. Tuttavia, determinata a mantenere il contatto con Kemal, riesce con l'aiuto di Leila a far recapitare una lettera al suo amato. La lettera, carica di emozioni e segreti, è un invito per un incontro clandestino. Kemal e Nian si ritrovano nella casa ormai vuota dei genitori di Yasemin, che in quel momento si trovano all'estero. L'atmosfera della casa deserta aggiunge un senso di intimità e segretezza al loro incontro. Durante questa notte, Nian, con voce tremante ma decisa, chiede a Kemal di passare la notte insieme, cercando conforto e amore in mezzo al caos che li circonda. Nel frattempo, Gokhan, sempre alla ricerca di uno scoop, riesce a catturare delle fotografie del loro incontro segreto. Le immagini raccontano una storia di passione e vulnerabilità, immortalando un momento che dovrebbe rimanere privato. Asu, venuta a conoscenza delle foto, vede un'opportunità per colpire Nian e Kemal. Ordina a Gokhan di pubblicare le fotografie il prima possibile, con l'intento di mostrarle a Emir e creare scompiglio. Tuttavia, Tufan osserva il piano di Asu con disapprovazione. Non condivide la sua strategia e la manipolazione delle vite altrui per scopi personali, creando una frattura tra lui e Asu e rivelando le differenze nei loro valori e visioni del mondo. La tensione cresce mentre Asu prepara la pubblicazione delle fotografie. Nian e Kemal, ignari della minaccia imminente, cercano rifugio l'uno nell'altro, ma il loro momento di tregua è destinato a essere interrotto. L'ombra delle foto scattate e del piano di Asu incombe su di loro, promettendo ulteriori complicazioni e conflitti. In questo intreccio di amore, inganno e lealtà, ogni personaggio si trova a fare i conti con le proprie scelte e le loro conseguenze. Le riviste scandalistiche pubblicano delle foto compromettenti che ritraggono Nian e Kemal sulla spiaggia, facendo sembrare che i due si siano incontrati per un romantico appuntamento clandestino. La notizia esplode rapidamente, con i giornalisti che gridano allo scandalo e le immagini che diventano virali, alimentando pettegolezzi e speculazioni. Emir, furioso per l'apparente tradimento, decide di agire con astuzia. Prenota la stessa camera d'albergo in cui si presume che Nian si sia incontrata con Kemal, orchestrando un piano ben preciso. Ordina a Tariq di portare Nian sul posto. Tariq, sebbene riluttante, obbedisce, ignaro delle reali intenzioni di Emir. Nel frattempo, Kemal scopre che suo fratello Tariq ha portato Nian in quell'albergo. La preoccupazione e la rabbia si mescolano in lui, spingendolo a recarsi immediatamente sul posto. È determinato ad affrontare Emir e a proteggere Nian da qualsiasi pericolo. Nell'albergo, l'atmosfera è tesa. Emir attende l'arrivo di Nian, pronto a confrontarsi con lei e a dimostrare il suo controllo. Nian, portata lì contro la sua volontà, si sente intrappolata e vulnerabile. La presenza minacciosa di Emir la mette in allarme e la sua mente corre a Kemal, sperando che lui arrivi in tempo. Quando Kemal arriva all'albergo, la tensione raggiunge il culmine. Determinato a salvare Nian, entra con forza nella camera d'albergo. La scena che si presenta ai suoi occhi è carica di drammaticità. Emir con uno sguardo di sfida e Nian visibilmente spaventata. Kemal, con una calma forzata, affronta Emir, pronto a tutto pur di proteggere la donna che ama. Il confronto tra i due uomini è intenso. Emir cerca di mantenere il controllo, ma la presenza risoluta di Kemal lo mette in difficoltà. Nian, trovandosi tra loro, cerca di mantenere la calma, ma il suo cuore batte forte. Sa che qualsiasi errore potrebbe avere conseguenze devastanti. In questo clima di alta tensione, ogni parola e ogni gesto sono carichi di significato. Kemal non solo difende il suo amore per Nian, ma anche la sua volontà di sfidare Emir, dimostrando che non si piegherà alla sua tirannia. La situazione è esplosiva e il destino di Nihan e Kemal sembra appeso a un filo, mentre le forze dell'amore e dell'odio si scontrano in un drammatico duello. Ma cosa succederà adesso? Pensate che Kemal riuscirà a proteggere Nian? E Emir? Riuscirà a portare a termine il suo piano? Lasciateci un commento qui sotto con le vostre previsioni e opinioni. Questa storia è un vortice di emozioni, inganni e sfide. Ogni passo potrebbe essere decisivo e ogni scelta potrebbe cambiare il destino dei nostri protagonisti. Continuate a seguirci per scoprire come andrà a finire questa incredibile avventura.